Dunque, Giulio Bozzo è founder e CEO di ReasonArt, che è una startup italiana dedicata alla crypto arte e che sfrutta il sistema degli NFT, quindi non fungible token. Buongiorno Giulio. La prima cosa che ti volevo chiedere è che cos'è l'arte digitale? Perché secondo me c'è ancora un po' di confusione rispetto a questo argomento. Sì, assolutamente, c'è tanta confusione e l'arte digitale nasce intorno agli anni sessanta con le prime sperimentazioni e l'arte digitale consiste in che cosa? In un artista che tramite il suo processo creativo utilizza un medium digitale, quindi utilizza uno strumento come può essere Photoshop, può essere l'alta aumentata, l'alta virtuale o l'intelligenza artificiale o tanti altri strumenti digitali che possono aiutare appunto l'artista a dare vita alla propria visione, quindi alla propria opera d'arte. Quindi questo è, diciamo, definito un'opera d'arte digitale. Poi ha diverse, diciamo, verticali appunto legati al medium specifico di utilizzo. Eri, ci parli un po' invece di questo approccio che tu definisci on-life, appunto che utilizzi per combinare un po' tradizione e innovazione nel campo dell'arte? Sì, diciamo che stiamo vivendo un momento molto delicato, molto rivoluzionario, dove appunto stiamo arrivando da un mondo, diciamo, più tradizionale, un mondo più, diciamo, offline nel mondo dell'arte, a invece un mondo che è prettamente digitalizzato sia nell'esposizione delle opere d'arte, quindi penso agli spazi virtuali e ai metaversi, sia poi nella vendita legata appunto a blockchain e NFT. Il nostro grande obiettivo è quello di riuscire a creare partecipazione e confronto negli spettatori attraverso delle esposizioni fisiche di opere d'arte digitali. Quindi stiamo adottando questo approccio proprio per creare questa, diciamo, dualità, questo mix attraverso appunto questo approccio on-life che è un elogismo del professor Luciano Floridi, che appunto riscrive un po' le nostre vite come un ibrido tra l'online e l'offline. È un po' quello che stiamo cercando di fare noi, quindi offline per quanto riguarda l'esposizione delle opere d'arte, mentre invece online per quanto riguarda appunto i processi e la modalità di vendita. E invece quale pensi sia stato l'impatto della sostenibilità, cioè del tema della sostenibilità nello sviluppo dell'arte digitale? Allora, il tema della sostenibilità sicuramente è molto interessante dal punto di vista degli artisti, no? Ci sono tanti artisti che appunto stanno indagando il tema non soltanto in questi ultimi mesi dove il tema comunque è sempre più caldo, ma è in tutti i sensi, ma anche appunto negli anni addietro. Sicuramente il mondo della blockchain si porta dietro un problema, no? Che è quello del consumo energetico legato al minting, ossia quando poi l'opera d'arte viene tokenizzata e quindi viene creato l'NFT, questo certificato di autenticità, e l'altro problema sono le gas fee, quindi quando l'opera d'arte poi viene trasferita, appunto ci sono queste gas fee che vanno poi a creare il consenso e vanno a creare il blocco della catena dove appunto c'è poi la transazione. Tutto questo appunto con delle blockchain che utilizzano la Proof of Work ha un grande rispegno energetico e un grande impatto ambientale, mentre invece ci sono altre blockchain come Polygon, Solana, Algorand che invece lavorano con la Proof of Stake e quindi vanno a limitare del 90% questo impatto. Quindi anche da questo punto di vista comunque le cose stanno diciamo cambiando in quest'ottica, comunque uno dei player più importanti che ovviamente è Ethereum passerà alla Proof of Stake e quindi il problema appunto si sta limando anche in quest'ottica. Ok, per concludere tu ritieni che il futuro dell'arte sia nel digitale oppure che questo sia un fenomeno diciamo più temporaneo e più passeggero? Credo che ormai il linguaggio che utilizziamo tutti quanti siano inerente al digitale, quindi gran parte degli artisti contemporanei ovviamente lavorano con questo strumento, ma non perché è una moda, ma perché proprio una necessità per fare la loro arte, per creare appunto le loro opere d'arte. Io credo che, anzi io spero che il futuro sia un ibrido tra i due mondi, perché il rischio di essere prettamente online e soprattutto con l'ottica di metaversi è quello di creare una società alla Blade Runner e alla Rivi Player One, dove comunque poi vivremo solamente in realtà virtuale, quindi non usciremo neanche più di caso. Quindi l'arte e la cultura in questo senso hanno un grande onore e onore per comunque veicolare un po' il futuro e creare un po' un progetto a lungo termine, anche un cambiamento culturale, un cambiamento anche di visione, di mentalità, ovviamente declinato in una maniera quadretta. Credo che il grande problema di noi, soprattutto nuove generazioni, sia quello di non vedere una luce in fondo al tunnel, e quindi attraverso l'arte e la cultura questo si potrebbe creare comunque qualcosa di innovativo e soprattutto andare a capire i pro e contro dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Le stiamo utilizzando veramente male perché noi le capiamo, nessuno ce le insegna a scuola, non ci insegnano che cosa è l'intelligenza artificiale e comunque è il nostro futuro, cioè il nostro presente è il nostro futuro, non ci spiegano cosa è blockchain, ovviamente se una cosa non la sai hai paura di quella cosa. Quindi c'è tutto un sistema che secondo me va cambiato, ma credo che anche qui in Italia stanno cambiando un po' le cose attraverso sia dei sistemi educativi di varie startup, cito Young Platform, molto interessante per avvicinarsi al mondo cripto, da un punto di vista più economico e quello che stiamo cercando di fare anche noi è di cambiare le cose da un punto di vista più culturale e artistico, un po' ricitando a Floridi questo progetto umano dove lui delinea prima un cambiamento culturale e poi un cambiamento economico politico in sequenza, perché è un po' anche l'obiettivo dei movimenti artistici nella storia è stato sempre un po' quello, per cambiare un po' lo status quo del momento del contesto in cui operavano. Quindi crediamo fermamente che sia un momento delicato già prima del covid, era già molto marcata questa necessità, il covid ha accelerato tutto questo, ora non ne parliamo e quindi è fondamentale un po' avere questo cambio di visione. Giulio ti ringrazio molto per aver risposto a queste domande, l'argomento è assolutamente interessante e appunto come dicevi tu sarebbe giusto approfondire anche proprio a livello di educazione, alla tecnologia eccetera. E niente, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.